Caffettino Weekend, il riepilogo della settimana in una puntata di podcast. Buongiorno e bentornati al Caffettino Podcast, sono Mario Moroni e come ogni giorno, da lunedì al sabato, sono qui con voi per chiacchierare e ogni tanto anche la domenica, chiacchierare di tech, social e anche marketing. Pronti in partenza via perché c'è tanta carne al fuoco in questa settimana. Prima di continuare voglio parlarti di Foo Fighters. 27, 28 e 29 maggio a Roma, un evento dedicato ai creativi, un evento dedicato a tutti quelli che si occupano digitale e non soltanto. Acquista il tuo biglietto su Foo Fighters.it, ci vediamo lì. Eh, molto bene, molto bene, immagino che siete un po' arrivando anche al Teatro Palladium oggi, in questo sabato pazzesco. Ma al di là di questo, al di là di Roma, della community che si rivede insieme, abbiamo aperto la settimana con una notizia molto interessante. Amazon lavora sempre più sul mondo retail e offre un cashback a chi acquista un prodotto grazie a Amazon Alexa, ma lo acquista nel retail e lo riscatta online. Una cosa molto interessante che vi invito ad andare a analizzare, soprattutto se ti occupi di commerce e di marketing. La puntata è quella di lunedì 23 maggio, per cui non fartela assolutamente sfuggire. Netflix cerca di ripartire e lo fa anche sperimentando tanto. Per esempio, nella puntata di martedì abbiamo parlato del live streaming, ovvero prodotti, show, serie tv e anche stand-up comedian in diretta sulla piattaforma di Netflix. È una grossissima novità, c'è stato qualche esperimento in passato, ma sembra essere una delle soluzioni future per far ripartire appunto l'azienda di Ray Daysting. Mercoledì in qualcosa di molto molto italiano abbiamo parlato dello sblocco della, diciamo così, deroga per quanto riguarda le partite ive forfettarie, sblocco per quanto riguarda la fattura elettronica. Al di là che qua ho visto ci sono ulteriori deroghe, come al solito, nella bella Italia, ma io invito in questa puntata anche in maniera abbastanza provocatoria a valutare la fatturazione elettronica come una grande novità, interessantissima, che semplifica anche il nostro lavoro di piccoli imprenditori, grandi imprenditori, professionisti oppure nuove partite ivea come i forfettari. La notizia di giovedì è una notizia non troppo nuova perché è uscita qualche giorno fa, ma che secondo me è molto interessante andarla ad analizzare anche dopo un po' di giorni, perché ci consente di capire perché Whatsapp sta facendo un percorso verso i social. La notizia è che Whatsapp consentirà di abbandonare i gruppi in silenzio, il che non vedevo l'ora, ne avevo bisogno come l'aria. Ma anche qual è la tendenza di questo programma di messaggistica che sta inventando sempre più un social? Chiudiamo con la puntata no news di venerdì che è la rivincita delle persone normali. Sono partito dalla vittoria delle Milan nello scudetto di quest'anno con l'allenatore Stefano Pioli, una persona normale che ha fatto delle cose normali e che ha risultato veramente vincente. Interessante anche come confronto con la nostra capacità imprenditoriale di professionisti di fare le cose normali come vanno fatte ogni singolo giorno, mi viene da dire quasi un po' al caffettino mille. Bravi milanisti ma anche brave le persone normali che fanno cose normali, che hanno stile, gentilezza e soprattutto educazione. Finisce qui la nostra puntata riepilogo della settimana ma attenzione rimanete in collegamento anche domani perché in diretta da Foo Fighters l'Academy farà una puntata insieme alle persone, ai partecipanti che sono lì. Per cui aspettatevi una puntata incredibile. Per tutte le altre puntate chiaramente ci sentiamo lunedì mattina, ore 7.30, puntuale. Mario Morogni è qui. Una buona giornata e buon weekend.